Una canzone di 1964 di questo signore, che si chiama appunto Littertoni, gliela abbiamo mandata, non si sa per quale motivo di essere al mente piaciuta e ha deciso di due stare con noi, infatti la canzone è Fittori di Littertoni, infatti quando la gente prende il signore, Fittori di Littertoni cosa vuol dire? E lui vuol dire Fittori di Littertoni, se la diamo con noi, tra l'altro è ancora in voce, per la misura, lui ha compiuto da poco 70 anni, quindi noi, io ne ho 45, faccio la grazia, si, per questi 70 anni, gli stanno, come dire, gli stanno, allora che cosa si chiama? Quando dovrebbe avere la mia grazia, cominci con questo, gli stanno? Amico mio, quando verrà, mi pugnerà, dille lo che tengo, e mi di corazzone. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.